I mercati si avviano alle scadenze tecniche di marzo, domani terzo venerdì del mese, scadenze tecniche molto importanti perché alla fine del trimestre scadono contemporaneamente un gran numero di contratti relativi future, opzioni e altri strumenti. Per cui ci sono sistemazioni, per cui i comportamenti possono essere anomali, quindi aspettiamoci oggi, intanto una giornata ancora dove ha proseguito il rimbalzo, ma anche se in modo discontinuo perché vedremo i risultati sono stati diversi tra l'America e l'Europa, però molto ormai è dovuto anche a questa situazione tecnica che si risolverà entro la giornata di domani. Dopodiché domani, come al solito, non mancate l'appuntamento dell'ultimo video della settimana che ora vediamo se pubblicare domani sera o sabato mattina. Iscrivetevi al canale su YouTube e agli amici di YouTube in modo da avere le notifiche perché comunque faremo un punto di situazione molto importante vista la situazione tecnica molto delicata, praticamente di tutti gli indici e anche di buona parte delle commodities chi per un verso chi per l'altro. L'America ha chiuso da un po' più di mezz'ora, ricordo che sono già passati all'ora legale con due settimane di anticipo rispetto all'Europa, quindi chiudono, il mercato americano chiude alle 21 ore europea. L'indice più, tra virgolette, forte è il Dow Jones che vedete con questo ABC completa oggi un movimento correttivo che va a target in quest'area che ho segnato, dove passa la volatility stop line e la media 200 che nel frattempo si è appiattita, quindi il test di questo livello sarà molto importante. Io adesso lascerei stare i livelli orizzontali perché sono stati tutti sporcati, ne avevamo diversi, 33-5, 33, sono stati tutti in qualche modo già violati, poi eventualmente più in basso il supporto grafico più importante in area 3-10, ma ci dobbiamo arrivare. Intanto qui abbiamo visto appunto nella giornata del 24 l'intervento di mani forti che tra 24 e 25 hanno portato l'apertura di questo trading range che è durato per il Dow Jones in pratica fino a oggi, fino a ieri sera, ecco ieri sera lo ha violato, oggi lo ha violato con maggiore convinzione portandosi sul livello di resistenza di cui vi parlavo. Guarderei un attimo i volumi, questo ETF ce li fa vedere, i volumi correttamente in questa fase calano, quindi marcando quello che è fino a questo momento il comportamento correttivo, ok? Quindi correttivo significa che il quadro tecnico primario è in questo momento negativo, come ci conferma anche il DMI negativo che finora è rimasto nella parte alta, ora durante le correzioni c'è il tocco e poi eventualmente dovrebbe partire un nuovo impulso. Viceversa la rottura di questo livello di 347 che corrisponde ai 34.700 per l'indice Dow Jones probabilmente potrebbe indicare l'inizio di una nuova fase tecnica da seguire con molta molta attenzione nel caso appunto questa rottura dovesse verificarsi, però non mi aspetto, cioè comunque dobbiamo aspettare la settimana prossima proprio per il motivo che vi dicevo, poc'anzi sulle scadenze tecniche. L'altro indice leggermente più debole S&P 500 che vedete il famoso range 24-25 che guardavamo ieri ci si è appena portato fuori, ma qui le mani forti hanno chiaramente delineato l'ambito entro il quale i prezzi avrebbero dovuto muoversi nei giorni seguenti, così è stato e anche qua ci stiamo avvicinando alla confluenza di questi livelli da cui passano ah tra l'altro qui ci passano media 200, volatilità di stop line, ritracciamento, questa linea bianca è il 50% di tutto il movimento ribassista. Scusate non so se sul Dow Jones, esatto, c'era anche sul Dow Jones, mi ero dimenticato di segnalarlo. Quindi la situazione tecnica è impressionante perché è molto simile, molto simile per tutti gli indici. Vediamo il più debole il Nasdaq, il Nasdaq si ferma prima, ecco perché è più debole. Guardate la distanza dalla media 200 e anche gli obiettivi di ritracciamento. Qui dobbiamo ancora ritoccare il 38% che avevamo toccato qui il 3 di marzo. Quindi l'indice tecnologico si conferma quello in questo momento più debole e questo lo sappiamo, è a causa dell'aumento dei tassi che penalizza i titoli grossi. Poi in coda abbiamo il Russell che la media 200 l'ha rotta già nel 2021. Chi segue sa perché abbiamo seguito questo lento curvarsi della media 200 e poi l'espansione verso il basso con la rottura di 210. Quindi l'uscita da questo rettangolo ci darà la condizione per il prossimo futuro. Però intanto anche qua io direi 0,38 è ancora vivo. Sì, è stato toccato appena qui il 10 febbraio ma non più raggiunto. Quindi questo è un altro indice che dal punto di vista tecnico è il più debole. Ecco, Europa, DAX è arrivato al 50% di correzione. Media però il DAX chiaramente ha avuto una rottura essendo chiaramente anche poi dopo la situazione degli eventi geopolitici che hanno pesato maggiormente sul DAX. Quindi la rottura qui è stata pesantissima della media 200. Molto lontani, quindi il 50% è comunque molto distante dalla media 200 che ha iniziato a flettere energicamente. Ieri parlavamo di candele di inversione, mentre sull'America non ci sono candele di inversione. Invece sull'Europa ha cominciato a apparire qualche segnale oggi. Il DAX ci fa vedere una candela inside che a un certo punto poteva essere un dark cloud debole, diciamo. Un po' più marcato il Fuzzi Mib che vede una chiusura perché da un punto di vista tecnico il reversal è tanto più forte quanto più la chiusura della nera è all'interno del corpo della gialla. Questi sono dettagli. Comunque è un primo segnale bearish, non è molto molto netto. Chi lo ha dato un po' più netto, e comunque guardate anche il Fuzzi Mib, 50% di ritracciamento, volatility stop line. Tutti gli indici sono su un obiettivo di ritracciamento importante e sulla volatility stop line. Poi la differenza si fa sulla distanza dalla media 200. Continuando il discorso di ieri su Intesa San Paolo, dove proprio l'amico diceva il titolo può continuare, diceva sì, fino a quando non appare un segnale candlestick importante è oggi apparso, quindi ne riparliamo ancora un attimo proprio per far vedere all'amico di cosa stavo parlando. Parlavo di una cosa del genere. Ecco, l'intesa, come immagino altri bancari, non li ho visti tutti, però oggi il settore è stato abbastanza debole. Questo è un bearish engulfing, cioè quando la candela nera copre completamente il corpo di quella gialla precedente. Quindi questo è un primo segnale candlestick di reversal, che va confermato. Per cui prudenza, perché qui ne abbiamo già parlato ieri, faccio riferimento al video di ieri per chi volesse andarlo a vedere. Sul fronte dei tassi e dei rendimenti diamo ancora un po' di tempo al mercato di assestarsi e di chiudere e riaprire posizioni dopo la riunione della Fed di ieri, sappiamo che ci vogliono almeno un paio di giorni. Qui abbiamo una figura di frenata, una specie di hammer a rami fatto proprio in corrispondenza del massimo a 2,2, 2,2% è il rendimento del decennale americano che noi spesso guardiamo. Guardiamo la figura un po' più dall'alto, perché qui avevamo notato questo famoso mega cap and handle, cioè un minimo arrotondato molto lungo a cui segue poi la maniglia, il break a rialzo, target area 2,3, non ci siamo ancora arrivati, primo target, area 2,3, 2,3% di rendimento. Vediamo se nei prossimi giorni questo target sarà raggiunto. Per il momento c'è un piccolo stallo qui che, ripeto, ci può stare vista la situazione. Stessa cosa, fase correttiva, l'euro che torna indietro, oscilla attorno al baricentro di 1,10, anche per l'euro, si tratta di un pullback verso la volatility stop line in area 1,12, potremmo vedere area 1,12, comunque anche l'euro per il momento mantiene un assetto ribassista, volume in calo durante la correzione, questo è quello che abbiamo molto forte, questo supporto ha funzionato, 1,10, poi con la volatilità abbiamo toccato livelli più bassi, però come vedete ha funzionato alla fine, ci siamo baricentrati su 1,10, anche se ora siamo nella parte alta del range di oscillazione. La novità del giorno è la ripresa dell'oil, petrolio, che ecco, questa è una configurazione candlestick di reversal, dove c'è una morning star, questa è una star, fatta dopo una lunga candela nera, lunga candela gialla, questa è da manuale, quindi questo ha fatto da supporto al TIC, l'area 95, 95,3, che era della vecchia resistenza, ritestata, ripartenza verso l'alto. Qui in teoria abbiamo aperta la strada, perché non ci sono grosse resistenze, a parte questa piccola congestione a 109, dopodiché la strada in teoria è libera per un ritest dei massimi, quindi anche qui continua la volatilità, continua la tensione sulle commodities, in primis sull'energia, gas naturale, questo è quello americano, più 4%, anche qui, nonostante questo sia appunto il gas naturale americano, quindi meno soggetto alle oscillazioni che abbiamo visto in Europa, però anche qua c'è una figura di lenta riaccumulazione con un triangolo flat in alto e dei minimi crescenti, che più spesso che no vengono questi triangoli violati verso l'alto. Le probabilità in questo momento sono per una prosecuzione. Ricordate sempre prosecuzione verso l'alto, ricordate che parliamo sempre di probabilità, qui certezze non ce ne sono. Quindi il piano B sotto 4,48, il gas naturale cambia scenario tecnico, ripresa anche se meno veemente rispetto a quella del petrolio, per oro e argento, che hanno fatto la stessa cosa, sono ritornati sugli stessi livelli equivalenti, questo livello di 1.900, area 1.900 è l'equivalente che abbiamo visto prima del petrolio, non ricordo male, era 95. Anche qui test ieri Hammer, oggi ripartenza. Ripeto, candele meno estese, però comunque volatility stop line fatto da supporto. Per il momento la configurazione bullish rimane, sia per l'oro e anche per l'argento, che conferma la tenuta della media a 200. La Cina che avevamo visto ieri con la risalita violenta di 7, 8, 9 punti percentuali a seconda dell'indice che abbiamo visto, oggi il China 50 ritracciamento ci sta, meno 2 dopo la percentuale di ieri. Però per avere dei segnali di reversal più affidabili, vorrei vedere il recupero di questa fascia che era stata rotta, che altrimenti se viene confermata la rottura direi che più che altro qui si riapre una lunga fase di consolidamento intorno a area 13.000 per come si è messa. Ecco, per cui attenzione a questo livello di 14.000 che se dovesse essere recuperato verso l'alto, allora si potrebbero aprire spazi di rimbalzo ancora ulteriori, perché comunque spazio verso l'alto il China 50 ce l'ha. Va bene, direi è tutto per oggi, siamo già a 13 minuti di video, lasciate come sempre nei commenti le segnalazioni di situazioni interessanti, non perdetevi il video di domani. Intanto buona serata a tutti e grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.